Due attacchi consecutivi di un branco di lupi affamati nello stesso recinto ai danni di un piccolo greggio di caprette nelle campagne attorno a Novilara. Il primo attacco è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ed il secondo invece la notte scorsa. Il posto è sempre lo stesso, un appezzamento di terreno recintato con una rete alta a due metri dove venivano custoditi otto esemplari, ora rimasti in quattro dopo le due reazzie. Gli esemplari regolarmente registrati sono di Mario Brau, pensionato con un lobby della campagna e degli animali di Bassacorte, ovini e caprini, che alleva nel terreno attorno alla sua abitazione, in strada Cerreto. Mario, oltre a coltivare il terreno, accudisce gli animali assieme al figlio, il quale stamattina, poco prima dell'alba, ha fatto la seconda marascoperta. Purtroppo in due notti ci sono spariti questi quattro capi che alla fine non è tanto il costo della capra in sé per sé, ma il danno che ti fa anche moralmente, considerando che abitiamo a 50 metri da dove è avvenuta l'aggressione, non sappiamo neanche noi come reagire, cosa fare, cosa non fare, quindi è un problema, è un problema grosso. Probabilmente ci dicono si tratta dello stesso branco, quattro, forse cinque esemplari che si nascondono nella macchia di Fondovalle e che lunedì notte ha colpito per la prima volta facendo strage di tre esemplari. Ritrovati poi martedì mattina da Mario nel suo consueto giro nell'appezzamento per dare acqua alle piante e che ora, dopo il secondo, questa notte si aspetta il terzo per far scempio dei quattro capi rimasti, spauriti e terrorizzati, che guardano continuamente verso il Fondovalle, probabilmente il luogo da dove sono arrivati nelle tenebre della notte i famelici lupi. Da quanto tempo tenete gli animali? Una vita, l'abbiamo sempre avuti, il mio babbo è una vita che li ha, li guardiamo, li teniamo, tutto per casa perché fondamentalmente lo facciamo per casa, però comunque sia, è un problema. A che ora più o meno, visto che comunque i cani hanno dato segnali? Sì, ecco, la mia ragazza stamattina verso le 5 mi ha avvisato dicendo che sentiva i cani che facevano un gran casino, ho detto guarda che c'è i cani che stanno facendo da matti, allora ho preso, sono venuto giù sapendo che ieri aveva fatto quest'aguato, sono venuto giù e purtroppo non l'ho visto ma non l'ho fatto in tempo perché ho trovato un'altra capra sbranata. Adesso ne sono rimaste quattro, temete per loro? Temiamo per loro, purtroppo non sappiamo cosa fare, se regalarle, darle via oppure eliminarle perché tanto è inutile che io le tengo queste capre per farle mangiare a lui, non ci penso, non mi dispiace ma no.